attento! fatto bro! ok grande si! aspetto te l'ho detto te l'ho detto basta un attimo un po' di tempo ciao a tutti creeper io sono celofi e oggi siamo qui con marques in questo nuovo epico video esatto siamo qui oggi su mcc island questo server davvero fighissimo che già vi ho mostrato un po' di volte e oggi ci facciamo delle partite con lui ha fatto anche lui un video sul suo canale quindi poi passate a vederlo mi raccomando vediamo un po le modalità che possiamo approvare sono battle box che lui ancora non ha provato e poi ci facciamo un po di sky battles ok i nemici sono della parte opposta e sotto c'è il centro dove si piazzano i blocchi da sostituire insomma ok io seguo te ok ah ci hanno già sparato questi infami oh ci sono tantissimi qui di generazione ok l'ho preso fuoco ma le frecce sono infinite no no ne abbiamo una decina ma giù che si deve fare e li devi rompere i blocchi e mettere gli altri ma è tipo un uomo dei pixel si esatto l'ho un po' copiato da quello ok abbiamo ucciso uno dei nemici sono ancora in tre però no ma ucciso ha beccato comunque qualcosa e riguarda un po attento che arriva uno da sopra ci sta seguendo però è mezzo mordos forse puoi farcela non ci possono mettere i blocchi ah no li puoi mettere solo al centro ah ecco perché invece di te li stavo pensando i blocchi e niente ah no qua non si può guidare vabbè va bene soltanto il centro poi ok ora sto capendo la modalità tranquillo ora li sfondiamo tranquillo sì questo è il primo adesso ne dobbiamo fare altri due sì sì tranquillo ora capito la modalità vai dai che la vittoria nostra è scarso questo vieni qui quanti sono tipo giubbola tipo tutto shiftato ok sei lì ok credo che ce l'abbiamo abbastanza fatta possiamo metterci a piazzare i cosa ok tu piazza io guardo nei dintorni infatti la c'è uno male rompo questo blocco bro no attento fatto bro ok grande sì però l'ho detto l'ho detto basta un attimo un po di tempo e abbiamo già recuperato perfetto adesso devo fare adesso un'altra è l'ultima perfetta e punti con anche con le kill ok perfetto la win quanti punti di da preciso non lo so non mi sono mai messo a calcolare però sicuramente vincetene da tanti c'è il danno da cavolo da qui per caso oh no no ti ha fatto il giro bro cavolo l'ho visto è volato di sopra sono troppi sono troppi sono troppi sono troppi arrivo ad aiutarti ok uno l'ho ucciso ne ha ucciso uno sto uccidendo l'altro eh cavolo però ok questo c'è un panino in testa che è ok no 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 mi ha ucciso ne ha ucciso un paio però ok vediamo un po ti do supporto morale ok è rimasto solo lui bene avete vinto sì perfetto 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 piazza mamma mia sì in totale siamo arrivati secondi buono 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 ok come modelli dai figa però ci sono solo tre round quindi sì sì ma beh dai però figo 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 vediamo se riesco a vincere in un tuo video allora no sì dai proviamo non entriamo nelle canne a zucchero lì perché nei bastoncini di zucchero quella roba lì perché ci fanno sempre le trappole gli infami nemici va bene va bene praticamente lì c'è l'acqua tu vai su e poi non riesci più a scendere quelli ti intrappolano e schiatti uno spada in diamante è purissimo va bene spada ripeto vabbè questa l'hai lasciata a te c'è già uno e vabbè ma è venuto qua tutto solo no è grande il lato ok nessuno ci ha fatto una trappola qui è ok perfetto salto vieni c'è anche l'arco più potente qui proprio prendere panciuno buonissimo fa vedere bene grazie e pantaloni anche il nostro amico vai amico fallo te il ponte vai vai fallo se cadi almeno ne sopravviviamo palle di neve vabbò più dipende dovremmo andare verso il centro faccio io faccio sembra tutto tranquillo puoi andare però non si sa mai qui vieni ho cacciato vieni arrivo ok sono proprio al centro io è bene ma c'è un'altra parte ancora per arrivare al certo modo assurdo attento che ti sparano ti spara ho visto ha visto ha visto col cavolo sono tanti meglio attaccarli aspetta ma c'è uno qua sopra se gli spacco sotto i piedi da dietro da dietro no 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 l'ho fatto un errore grandissimo aspetta si scava sotto arrivo sono vivo sono vivo sono vivo sono vivo sto salendo ok no qua c'è troppa gente non c'è niente qui ma no niente di niente assurdo hanno già fregato minuto no proprio scappo c'è una spada di avanti buono sì sì già ce l'avevo io quindi vieni ok cavolo c'è tantissima gente provo a sparare quello ma l'ho preso è caduto ok eh no troppi diamanti diamanti no hanno costruito una cosa brutta ma hanno fatto un pene eh sì ho visto guarda quello lì ne sta costruendo un casino è da bannare guarda non so se posso non so boh si ovvio che puoi mostrarlo tranquillo ok ma guarda si annidolo no però siamo tipo in mezzo come non ci entriamo nulla noi qui ah ti seguo aiuto no 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 mi sparano eh niente non ho fatto cadere ok bene no il nostro amico è morto vai picchialo no da dietro vabbè dai non siamo morti subito almeno io sono ancora vivo per po ecco però siamo arrivati al centro abbiamo fatto delle grandi giocate oh bro team rosso questa si vince eh sì anche il mio colore quindi dai ci siamo perfetto ok puoi andare sembra tutto ok c'è non mi ha messo la tnt e qui è scarso scarso si sta vagando un casino ok l'ho killato ok abbiamo dominato sta parte perfetto oh qua c'è uno mori mori ok è caduto lo savo bene bravissimo direi da c'è troppa gente secondo me però per andare al centro dobbiamo passarci per forza io vedo che stai costruendo sull'aria oddio ma in che senso no ho visto che ti erano spariti i blocchi sotto per un attimo sembravi un cheiter fortissimo ok e questo è morto eh cavolo quanti eh ma questo lascia in diamante no era impossibile non c'è nessuno accanto a te però invece si attento ci sta scavando no ci stanno cercando tutti corri corri c'è lì dietro eh no eh vaffanculo troppi c'è nero che palle va bene però un giorno impareremo a essere bravisti a modalità ma davvero sono abbastanza bravi eh sì insomma in realtà siamo abbastanza bravi neanche noi però sì il problema che loro comunque mi ha targhettato non mi ha lasciato nemmeno il tempo di respirare eh ci sono qui tanti team però si speed run qui vieni ok vai seguo te il mio compagno che sta sta andando a che sparano ci sparano attento ok facciamo così vanno i pendiblocchi che sono più utili oh ma chi ha sponato tutti questi creeper qua io sono solo ok va bene si stanno facendo esplodere da soli oh no 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 eh questo è forte io me ne sto scappando dal centro bro anche io ci provo ok eh ti vedo sei laggi in fondo qua c'è qualcosa mi bevo una pozione hop forse ne è stata una bella rossa ho preso la cesta al centro io sono vivo per pochissimo ok ho preso la cesta al centro bro bene qua c'è della tnt ce l'abbiamo dietro ce l'abbiamo dietro mamma mia ok che casino voglio mettere i pantaloni no e cavolo quanti sono morti un'altra c'è spedizione a voi sono morto ormai ah ok stavo mettendo i pantaloni c'è uno sopra uno sotto ovunque qui qua non l'avevo visto eh non l'avevo visto ho fatto una cazzata io ad attaccare in realtà eh ma c'erano tre team in quella cavolo di isola vabbè dai possiamo dirci soddisfatti guarda lì di sesto ci sta ci sta ci sta bene ragazzi quindi direi che possiamo concludere qua ringrazio moltissimo marques per la partecipazione grazie a te bro grazie prego prego e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao